I miei giovani questi, io dico, costituiscono l'avenire del popolo italiano. Mettetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che è una conquista fragile, bisogna che la libertà sia unita, la giustizia sociale, sono un binomio incindibile, lottate quindi con fermezza giovani che mi ascoltano, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi, sino al prezzo della mia vita, perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. E voi giovani siete la futura classe dirigente del nostro paese, dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Loterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. A presto! 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 A presto!